ciao ragazzi buongiorno benvenuti oggi 9 giugno 2022 insieme a Coromura vediamo che cosa c'è di disponibile nel negozio oggetti di fortnite ma prima mi raccomando ragazzi ricordatevi mettete un bel mi piace a questo video se è stato di vostro gradimento ed iscrivetevi al canale abbiamo il ritorno dei set balenziaga andiamo a vedere cavalieri balenziaga abbiamo il costume epico ramirez scatenata il suo dorso decorativo zainetto brandizzato cavalier crestato costume raro il dorso decorativo borsa porta skate sia il costume epico di ramirez scatenata che del cavaliere crestato hanno più stili selezionabili ramirez scatenata argento e il cavaliere crestato ragazzi la cavaliere crestato è cavaliere crestato furtivo 1800 v bag per portarci in questo quando alla casa abbiamo poi il bundle balenziaga scatenato andiamo a vedere banshee fashion anche lei con più stili selezionabili banshee fashion 24k il costume banshee fashion cambia colore con le eliminazioni poi abbiamo il suo dorso decorativo zaino chic quotidiano e il carlino vip con più stili selezionabili carlino vip in bianco in rosso cardinale e in nero mezzanotte il suo dorso decorativo zainetto mimetico 1800 v bag per portarcelo a casa luke balenziaga con le mode look sneaker shock lo strumento di raccolta raro il deltaplano raro borzetta plano la copertura non comune look inconfondibile a un'altra copertura look inconfondibile di mezzanotte e quindi ancora la terza look inconfondibile 24k 1600 v bag per portarci questo piccolo bundle a casa ragazzi scendiamo e abbiamo ovviamente il balenziaga che può essere preso singolarmente quindi scegliete voi quali sono gli oggetti che volete comprare in evidenza abbiamo poi il bundle squadra d'assalto sirena costume raro fa parte del set squadra d'assalto come dicevamo prima apparizione capitolo 2 stagione 2 con più stili selezionabili il suo dorso decorativo ultimo bacio poi abbiamo lupo costume raro anche gli con stili selezionabili il suo dorso decorativo pacchetto pelliccia ascei però x o come lo si voglia nominare strumento di raccolta e lame del riflesso 2400 v bag per portarsi questo bundle a casa poi possiamo prenderlo anche singolarmente sirena lupo e e due picconi abbiamo poi in evidenza ancora cristallo costume non comune da 800 v bag per portarlo a casa molto molto bella ragazzi per una skin da 800 torniamo indietro abbiamo brondo fa parte del set di no guardia prima apparizione stagione 10 con il suo backpack borsa bronto 1200 v bag del nostro pterodattilo come deltaplano epico fa parte sempre del set di no guardia della stagione 4 prima apparizione 1200 v bag del nostro abbiamo il strumento di raccolta morso 1200 v bag fa parte sempre del set di no guardia è arrivata ancora una volta starter fa parte del set scasso stagione 7 con più stili selezionabili e il suo dorso decorativo spazzaino ragazzi per 1200 v bag è veramente un ottimo affare custom costume epico fa parte del set scasso stagione 7 stili in anteprima andiamo a vederlo il predefinito e il gazz tom il suo dorso decorativo anch'esso con stili predefiniti e lo stile cat 1500 v bag è il nostro scendiamo e abbiamo il ritorno del bundle geometric con più stili selezionabili reattivo si reattivo no e reattivo oro il dorso decorativo con più stili selezionabili reattivo si e reattivo no il strumento raccolta ascia cubista e la copertura assimilazione cubica lo possiamo prendere anche singolarmente ragazzi poi abbiamo i giornalieri pesce balestra pesce secco lo vestono in tutti i modi fa parte del set cibo di mare capitolo 2 stagione 1 e il suo dorso decorativo con mando corallo 1200 v bag per averlo bellissima spiaccicarella costume raro lama guardatevi le spalle fa parte del set stermina lama capitolo 2 stagione 3 come prima apparizione e il suo dorso decorativo chiaro squarcialama 1200 v bag per portarla a casa via di qui l'emote 500 v bag ragazzi ascia borchiata come strumento di raccolta fa parte del set stile elegante stagione 5 800 v bag del nostro rompichiaccio prima apparizione stagione 1 fa parte del set comando artico 500 v bag del nostro siediti l'emote non comune prima apparizione capitolo 2 stagione 1 siediti e rilassati 200 v bag del nostro scendiamo e abbiamo poi ancora il bundle di ieri alza il volume che fa parte del coacella e ancora tutte le monte di alza il volume che avevamo già visto e anche le skin di bagliore e tutte quante le altre ragazzi e abbiamo ancora la collaborazione di pacman attiva e ci fermiamo con le offerte speciali della epic con il pacchetto leggende estivo il pacchetto leggende laura ragazzi io ritorno in lobby vi saluto e ci vediamo allo shop di domani mi raccomando mettete un bel mi piace se il video vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale e commentate ciao ragazzi ci vediamo allo shop di domani